Sindaco ancora poche ore e lei potrebbe essere il Presidente della provincia di Teramo. Come sta vivendo questi ultimi momenti da solo Sindaco eventualmente di Cronialetto? Intanto è una giornata bella perché vedere tanti amministratori che tornano in un luogo istituzionale come l'amministrazione provinciale già è un segno positivo. Poi c'è lo scambio dell'idea, dell'opinione e probabilmente anche del voto. Io la sto vivendo in una maniera serena perché poi al sottoscritto queste cose appassionano. Quando c'è un'elezione io mi rivitalizzo, come sempre dico, sono fiducioso nel risultato. Aspettiamo le ultime ore per conoscere poi il dato effettivo. Ecco, lei vive in maniera unica e particolare perché oggi che è di mercoledì, dico sempre le ennesime brutture che i governi centrali hanno prodotto, oggi c'è un'elezione in provincia di mercoledì dove non votano i cittadini ma votano i consiglieri. È una partita che io non sono abituato a avere perché qui giochi con la politica. Ho avuto un atteggiamento diverso da quello che è stato il comportamento di altri, dico perché qui ho cercato di dialogare senza promettere nulla. Cercare che un voto sulla persona e sui territori, sapete come tutti i media mi hanno dato già sconfitto, ma mi conosco e gioco anche le battaglie perse in una certa maniera. Ho una percezione positiva, mi fermo qui perché dovrei polemizzare perché su Teramo Capoluogo credo che ci siano dei problemi, però dico che ho una percezione positiva, è stata un'esperienza nuova perché sapete che io vengo dalla gente, tra la gente, non ho avuto mai esperienza in partiti politici e dico oggi per fortuna. Poi dirò qualcos'altro più in futuro. Ampia l'affluenza alle urne, da un punto di vista dei risultati, questo può significare qualcosa? Credo di sì, di solito chi parte in svantaggio più gente va a votare, quasi che c'ha voglia di cambiare quel risultato iniziale. Lo spero, ho una certezza, che se dovessi vincere, chi ne beneficia sarà nel territorio e i cittadini dei nostri territori. Piuttosto fiducioso dunque. Sì, la fiducia, dico sempre, sono l'uomo della speranza. Se ci togliamo la speranza, la fiducia, cosa viviamo a fare? Io credo che non si possa parlare di un'ampia affluenza. Parliamo di un'elezione di secondo livello dove sono gli addetti lavori, i consiglieri, quasi 600 consiglieri, che sanno di dover votare, quindi verranno tutti a votare. Poi ovviamente c'è questa scelta del candidato, io spero che scelgano Giuseppe Tarozzo. Fiducioso dunque? Mi sento tranquillo. Alle spalle ho dei risultati che sono all'evidenza di tutti e quindi penso che questo farà la differenza.